Ignazio Scaravilli, siciliano ma da moltissimi anni residente a Padova e lui il medico italiano scomparso in Libia dai primi di gennaio. Chirurgo ortopedico specializzato in interventi sulla mano ha lavorato per 35 anni in ospedale come aiuto e primario del pronto soccorso, svolgendo anche attività privata alla clinica Morgagni di Padova come direttore del reparto di fisioterapia e riabilitazione. Scaravilli risulta irreperibile dal 6 gennaio scorso. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era partito prima di Natale con altri 4 colleghi siciliani per operare in un ospedale di Tripoli. Con lui sarebbe partita anche la moglie. Il chirurgo si divide tra lo studio medico a Paternò nel Catanese e la città di Padova dove vive con la moglie e collabora con la clinica Diaz. Dal suo sito internet si capisce la sua passione per la medicina. Si definisce una persona che lavora con una testarda, voglia di aiutare il paziente a superare le proprie sofferenze e a recuperare il più possibile la libertà di movimento. E proprio fare movimento, movimento è ancora movimento al suo moto. Della scomparsa del medico Padovano è stata informata la Farnesina. L'irreperibilità del nostro connazionale in Libia ci è nota. Seguiamo il caso con il riservo che ci è consueto in queste situazioni, ha detto il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Scaravigli aveva lavorato per anni al Sant'Antonio insieme all'ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Padova, Giampiero Avruscio, ora primario di Angiologia. Ecco come ricorda il medico suo caro amico. Ci siamo sentiti l'ultima volta proprio per gli auguri di Natale, il 23 dicembre, sia per email, sia per sms e sia a voce. Insomma, qui mi accennava questo viaggio, però ripeto, sicuramente non è mai stata una persona avventata, sicuramente un entusiasta, uno che ha sempre lavorato nella sua vita e non ha mai smesso di lavorare.